G come Giove, il grande benefico, il pianeta più amato da tutti proprio per le sue caratteristiche di espansione, di abbondanza, proprio perché sta a simboleggiare delle energie che sono energie di fiducia nei confronti del mondo, delle possibilità che sono di fronte a noi e anche nelle capacità nostre, anche connesso un po' all'autostima, il nostro Giove. Giove è G, gioia, come gioia di vivere, ma Giove è anche godimento, di nuovo questa lettera G ci guida all'interno di queste parole chiave che possiamo associare a questo grande pianeta, un pianeta che ha sicuramente bisogno di una trattazione più ampia e che prometto offrirò nei prossimi tempi, insomma quando sarà possibile. Intanto possiamo dire che tutto ciò che in un tema Natale viene toccato da Giove diventa più grande, si espande come significato, come peso, come influenza e spesso può anche diventare più fortunato. Lì dove lo troviamo appunto nel nostro tema Natale, la casa in cui noi troviamo Giove nel nostro tema Natale è generalmente quell'ambito della vita nei quali noi siamo più fiduciosi, nei quali noi incontriamo maggiore anche gratificazione, maggiori occasioni, maggiore apertura, è un punto, è un ambito, un punto del nostro cielo nel quale noi siamo gaudenti, nel quale noi siamo gioviali, nel quale noi incontriamo questa grandezza, siamo in contatto con questa straordinaria fiducia. Come vi dicevo avrà una trattazione tutta sua, un video dedicato perché è troppo grande per essere ridotto a questo piccolo video. Grazie.